Sono Marco, titolare assieme all'Elide del ristorante Al Matterel di Corso Garibaldi 1975. È un vecchio locale milanese, uno dei più conosciuti. Si fa sfondando cucina milanese. Le ricette sono quelle dei nostri vecchi. Senza invenzioni, senza giri di parole. È una cucina semplice, ma che si gode. Qui si viene per mangiare in maniera sana, piuttosto abbondante. I nostri piatti fanno molto il rosso di mega, il rosso buco con risotto, la polenta alla fine del mondo quando è la stagione del tartufo fresco e i fumi freschi. Facciamo tutta la pasta fatta in casa, tutti i dolci fatti in casa. Saluto gli amici di Don Presto e un presto arrivederci con piacere, perché per gustare la vera cucina milanese non c'è altra risorsa che il Matterel. Grazie. 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 Grazie.